Con il suono della prima campanella e l'avvio di un nuovo anno scolastico tornano in auge anche le famigerate chat di classe tra genitori di studenti minorenni, ai quali è indirizzato il monito del garante per la protezione dei dati personali a tutela dei minori, che pone limiti precisi all'utilizzo condiviso con altri genitori di foto e informazioni sulla privacy dei minori senza il consenso dei partecipanti. Regole ferre perché le chat di classe e i loro profili social non diventino luoghi in cui i dati personali dei minori siano in pericolo. La posizione del garante sta però sollevando molte discussioni soprattutto tra padri e madri chiamati in causa nelle temute chat di classe. E dunque, come stanno le cose? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Monti, professore incaricato di Digital Law presso l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Innanzitutto bisogna dire che il regolamento comunitario, il cosiddetto GDPR, disciplina la circolazione dei dati personali e non la privacy in quanto tale, che invece trova maggiore tutela nell'articolo 615 bis del codice penale che punisce le interferenze illecite nella vita privata. Inoltre, il GDPR non si applica ai trattamenti eseguiti nell'ambito della vita privata, a meno che i dati non siano destinati alla diffusione. La differenza è cruciale perché diffusione significa mettere a disposizione di chiunque dati e informazioni, mentre quello che accade in una chat è tecnicamente una comunicazione, cioè uno scambio fra un numero limitato di persone. Ma allora si può fare tutto quello che si vuole con le chat di classe? No, perché ci sono altre norme che sono più rilevanti rispetto al GDPR. Usare le chat per insultare e minacciare può integrare i reati di violenza privata o diffamazione, anche peggio se poi testi vocali, immagini e video vengono inoltrati a soggetti estranei e alle chat di classe senza un giustificato motivo. Per esempio? Per esempio, mettere a disposizione il contenuto di una chat all'autorità giudiziaria o al proprio legale per consentire la valutazione di un fatto o di un'affermazione è senz'altro lecito. Al contrario, e a prescindere dal GDPR, ripubblicare contenuti magari sul proprio profilo social con lo scopo di esporre al pubblico ludibrio un insegnante, un altro genitore o addirittura un minore non è certamente consentito.